Oh ma non parliamo con la roba del camion, con l'eh... con... Ah, è vero, dobbiamo fare un po'... Va bene... Va bene, che amore della... No, no, non ce l'ho io, l'ho preso con... L'ho comprato e ce l'ho con... come si chiama? Con Pegasus Adesso dobbiamo iniziare a far volare un camion Eh, già Vai, io ho a far volare, devo Come faccio ad aprire qua l'idea? Eh, devi piensare non ci fate per farze, infatti nessun, non potrei guidarlo Ma, no, in vera... Scusate, e il tuo? Vai, vai in... Veicoli e ci dovessi di quelli potenti per aprire tutte le porte che si possono aprire No, non ho mai cosa che mandare solo da relax, perché è della Pegasus, non posso tenere Ma questa cosa fosse un veicolo a caso di nessuno Io faccio? Eh, vabbè, non per la macchina Eh, sì Eh, se si mette dietro la macchina esplori tutto Vai, 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 vai Sì, ma due secondi è anche la violata A posto Va bene, va bene Il problema è questo Non era proprio questo che non si intendo Ma va bene, fosse... Ah, vai via Hai chiuso No, è aperto, però non si apre Aspetta, aspetta Aspetta, aspetta Annotateci Provo a mettere un altro C4 Aspetta, via Ma... Ma è che... Lo sai cosa faccio? Me lo compro io e il Kagan C'è quanto era dal più basso Eccolo qua, il secondo, 27.000 Ah, vai via Te va me lo compro Vedi, c'è scritto che... No, non c'è scritto Ecco, no, attenzione se tratta di un piccolo della Pegasus Non puoi... Non puoi vederlo personalmente Aia Ma chiami MdC, dove mi attraversavo Lo chiami tu Mi dice che stava presto disponibile presso Pegasus Tu, basta che la chiami Chiami che... Guarda, guarda Guarda le spogono Hello, Pegasus lifestyle management How can I help you? Ma tu me l'ha spunato Perché è nella pista di cavalli? Chi è che... Anche me Metti un camion nella pista di cavalli Ah, il collo Madonna, il collo Eh... Qui io la deluxe arrivo Ok, l'ho preso Stai rimando Intanto prova a far saltare le porte Però piano 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 Via, via, via E che sono un C4 Poi aspetta Eh, niente, non è comodo Vabbè, su, via Non può andare bene Ah, sono saltati... Sono saltati proprio Aspetta Ecco, no, vabbè Eh... Ma che è già un perfetto Sì Io avrei aspettato che si fosse spento l'incendio, eh Non so Aspetta, 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 aspetta Mi fai salire nel passeggero Nel passeggero devo salire Aspetta, la che tolgo le ali Tolgo le ali e le metto dopo Ah, sì Vai, entra Vai Sì, sì Sì, sì Un boss Stavo andando Stavo andando Stavo andando Stavo andando Siamo addosso Eh, no Ci siamo cascati Ma non potete mi scendere la fede questo Vai, vai, spingi Tu, tu, tu spingi Tu spingi Tu metto... Vai al massimo Siamo... Siamo caduti Eh, siamo in verticale Eh... Eh, niente Siamo... Siamo cappottati Gira di... verso destra No Non vedo niente Non vedo niente Non vedo niente Io sono fuori Vai al cambio Al contraire Eh, io... Eh, io sono ancora dentro Prova ad entrare tu... tu sopra questa volta Sì, ma non facciamo volare al contraire Sei zitto Quello è l'importante Non volando volando che volo Guarda qui Guarda qui Guarda qui Ah, ma io... Ma io non... Ma io non... Oh Oh No, no No Ci siamo ribaltati Eh, niente Aspetta, però... Gira... Gira verso sinistra Propriamo farlo rimboldare di nuovo Ho detto mai rimboldavi Samo, dici che... Con il lanciazzo pirotecnico Dici che apri... Solo... Le porte Forse... Forse... Dobbiamo provare Forse sì Ok, ok, ok Vediamo, vediamo se si apre con... Ahia Mettico quanto? Eh beh, eh beh... Provarci No... No, mi sento distrutto La nostra scusa è più sincera Ma... no è un assieme a guardare la fa esplodere o se le dicevano di volare a danneggiarla ma non la distrutta la maturina tipo niente è molto che viene con questo piccolo tutto distrutto e no io io non ho preso a fuoco, niente ho preso a fuoco se no niente è un'ioca, ecco si è un accidente ma non lo farò da te, ho stato a camion, che esploso, e tu sei morto, non eravi strano, non è colpa mia questa volta non è colpa mia abbiamo bisogno di uno che ci dice se vuole o no va bene, Fede, tu sei fuori dove ti alzavi, dove ti alzavi, dove ti alzavi, no, no, siete andati sussati aspetta aspetta, provo a togliere, fermo, 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 fermo non fermo, ho tolto anche le gomme vi tiro giù io un attimo no non così però vi tiro giù io, ragazzi, ha spato un missile non vi ho spato non vi ho spato, non vi ho spato, mi siete ucciso a vicenda, praticamente sei dicendo eh, mi sa che siamo esplosibili eh, oops cosa sta facendo? vabbè, è un poliziotto che appaorie il primo poliziotto deschi che si caga addosi no, no, mi ha attaccato non è il mio OSL e ci ho poliziotto con me, è una macchina guardalo la cosa bella è che Se ne guardo La cosa bella è che Se un polizzato mi pende dente, lo pende io le stelle Vedete, gli altri polizzati che mi guardano, lo sgommolo, lo faccio in macchina Cosa? No, non ci crederete No, ma secondo me non è vero Si può stare bene a bordo, è vero? Eh, mi sa che c'è un modo per salire dietro Però ci serve uno che guida davanti, c'è uno nuovo Sì, sì, ce l'ho io, ce l'ho io, sono sulla strada, sono nel parcheggio del casino Eh, io ho bisogno di aiuto, io ho due stelle E mettole che ti inseguo per salire su quel cazzo di camion Non vedete cosa sapete dire Ma, ma, ma Cosa? Ma, ma, ma Fidi, 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 Fidi Ma, ma No, 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 no Fermati Entra 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 Sì, stai fermo Entra 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 E adesso prendi in mano un'arma in mira Ecco Ehi, chi è? Ecco Visto? Aspetta Vediamo se possiamo Vai G Vai Samu Vai Samu No si sta giudendo Vai un po' indietro Samu La strada è un po' che io ho ancora la draxola esplosa Ok ok bravo bravo Lascia così Cedra e niente Io posso fare solo questo Samu Samu Stam volando Stam volicchiando Ma? Fiamo 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 Basta Ralle frena Che sapo io Vai vai Aspetta No Non devi Stai La posso Vai vai Sali Vai Samu No sali 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 Io non vedo niente Io non vedo sapere niente No 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 si risplode 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 Scusa ma Cioè io Io salgo E quando ti vuole ali Speriamo tutto R2 E vado verso tutto Tutto verso alto Vai Samu Quindi io non capisco Vai vai Ok Adesso dobbiamo accelere ai Tutti Si No siamo Siamo Stai Vai 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 Si Dovano Ma? Ma? Abbiamo fatto... Cosa? Mission complete! Tan 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 tan... Ma anche scherzi, fai da clipa per favore, sto vedendo... Sto vedendo cose... Eh, eh, ma io vedo malissimo! Perché... Io non vedo... Il carino mio! Il carino... Questo è il carino... No, no... Non mi sape... Posso? Non mi pare che non posso vedere bene perché sono dentro... E' un vero così niente... No, non dobbiamo... No, vabbè... Ce l'abbiamo fatta? Sì... Io vedo che io posso decidere da che... In che verso andare, cioè se vogliamo salire... Se vogliamo salire io faccio quello... Allora... Allora, ecco a quella serve che ci... Ci deve essere uno che guida... Perché deve... Perché è lui che è filodano... Io... Sto so... Perché cosa si è esploso? Beh, no... Ma no! No! Non è esploso! Perché... 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 Non potrebbe essere nel... 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 Perché è bellissimo... Ma non ci stiamo volando... Sì... Sì... Perché si può muovere... Le camera? Cioè... Vento da scrivere scritto il premio Nobel quando... Ma... Vado... Sbagliato! 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 Non lo sbaglio! Ho quel punto verso destra! Non dovevo! No! Dai dritto! Dai dritto! Via! Via! No! No! Se tu vuoi... Devon tu... Basta che accedi... sono io che sto girando ok 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 allora tengo premuto solo R2 e basta non premo nient'altro vedi che stiamo volando c'è lo vedi bevissimo eh sì sì ma nemmeno vedo l'unico problema è che si muove la telecamera poi non... non vedo niente quindi dopo... non ci togliamo aspetta abbiamo sotto l'acqua dentro marcia? no 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 L'avete abbandonato! No!